Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 31enne per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato sul lungomare Trieste dopo aver insospettito gli agenti con il suo comportamento. L'attività di controllo ha permesso di rinvenire sei piccoli involucri contenenti rispettivamente tre dosi di cocaina e tre di eroina. Inoltre, presso l'abitazione del 31enne, sono stati state trovate altre 26 dosi di cocaina e 25 di eroina, più alcune dosi di hashish. Recuperati e sequestrati anche la somma a provento dello spaccio, pari a 180 euro, e due bilancini elettronici per la pesatura di precisione, nonché altro materiale utile per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Gli agenti della Polizia di Stato, pertanto, hanno tratto in arresto lo spacciatore ponendolo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che in attesa del proseguimento della procedura ne ha disposto l'accompagnamento presso la casa circondariale di Salerno-Fuorni.